30, sinistra 4, 100, destra 3, subito ritorna, sinistra 4, per, attenzione, destra 4, subito 4, tornato nel sinistro, bella, vai, 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 giù di casa, per, destra 5, per, sinistra 5, lunga, l'albero chiude 4, per, destra 6, lunga, per, destra 4, per, attenzione, ritardo destra 2, occhia all'uscita, chiudila, chiudila adesso, vai, 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 no sta mancando oh dai, 70, attacca il secondo, sinistra 5, lunga, lunga, diventa 4 suddosso, si è staccato per, niente, non va, senza turbo, no, scompone subito a destra, 6, 6, 6, 3, tieni subito a fiore a destra 4, vai, 100, guarda se vedi, se c'è, quanti minuti abbiamo, controlla il tempo, per non disturbare a marrone, 17, 21, vabbè fai a vista adesso, fa, eh, eh, più che altro, controllami il tempo per marrone, no, vai, no, vai tranquillo, a quanto, a quanto siamo, a quanto tempo è passato, siamo a due minuti o qualcosa, mi sta per raggiungere, si, cosa fai, lo vuoi aspettare qua, giù, mi sposto, dai, aspettalo qua, giù, sono, si becca, la polvere, però, sono, si becca, devo, ah, guarda ah, no, sai, ah, no, t'ai anche Grazie.